Buongiorno a tutti, Malatempora Courrunt. Allora, nel video che ho fatto sul cappello di Pade di Firenze, recensione dell'opera che è andata in scala, intorno al minuto 7, ho citato la frase che c'è nel libretto dell'opera, che recita è una, diciamo, donna di colore, però definita con una sola parola di 5 lettere che comincia perenne. Ho citato quello che c'è nel libretto, ok? Mi arriva la salinazione di YouTube dove dice linguaggio potenzialmente inappropriato e incitamento all'odio. Mi ha detto, ma io non ho capito di cosa stesse parlando. Dopodiché mi dice il minuto in cui c'è la cosa, in cui c'è la frase incriminata, vado a vedermela e capisco qual è l'arcano. Allora chiedo la revisione manuale, perché funziona tutti i video che vengono fatti su YouTube, passano, come dire, al vaglio dell'algoritmo, che sente le parole e ha, come dire, un alert su certe parole e segnala proprio che poteva starci benissimo che l'algoritmo ha percepito sta parola e non ha capito di che cavolo stavo parlando. Vabbè, ci può stare, per cui io chiedo la revisione. Aspetto qualche giorno e mi arriva la risposta di YouTube che dicono che ha fatto la revisione manuale. La revisione manuale vuol dire, teoricamente, non ci voglio credere, che una persona, e non un algoritmo, una persona in carri d'ossa ha visto il video prendersi conto del contesto in cui stavo dicendo quella parola. Ok? Per cui qualunque persona con un cui superiore a 60 capirebbe che non era né un linguaggio inappropriato né un incitamento all'odio, ma stavo riferendo quello che c'è nel libretto, tra l'altro l'utilizzo della parola, eccetera, eccetera. Quindi mi arriva la risposta di YouTube e dice che dopo anche la revisione manuale hanno deciso di confermare linguaggio inappropriato e incitamento all'odio. Con una serie di conseguenze sul canale, vabbè, adesso non sto raccontando questi dettagli che non mi interessano, ma io credo che siamo un passo dalla follia. Cioè, siamo in una situazione in cui si può dire di tutto in televisione su YouTube, le parolacce e le bestemmie sono sdoganate, sdoganate, però se uso quella parola che non posso neanche più dire, altrimenti invloccano anche questo di video, niente, faccio incitamento all'odio e il linguaggio potenzialmente inappropriato. Io sono perplesso, basito, dite come vuoi, e sto anche pensando che ho tantissimi amici il cui cognome di cognome fanno N-E-G-R-I, che è un cognome tra l'altro molto diffuso in Italia. Io ho almeno due o tre amici che hanno questo cognome. Quindi adesso loro non potranno mai dire il proprio cognome in un video su YouTube. Non so, ragazzi, sono perplesso.